Una novità Barker Brothers, un gioco per tutta la famiglia, farla franca. La vostra squadra ha appena assassinato il presidente, riuscirete a farla franca? Getta i dadi e lo saprai. Grande, hai trovato un uomo di paglia, prova ancora. Un vantaggio, vincete un Jack Ruby che vi fa fuori l'uomo di paglia, bene, i morti non parlano. Oh no, un tale Sabruter ha filmato l'assassinio, brutto colpo, ma avanti coi dadi. Un colpo di fortuna, 22 testimoni muoiono misteriosamente. Ora tocca al tuo avversario, il giornale Life compra le fotografie di Sabruter, ma voi comprate il giornale Life e truccate la sequenza delle foto. Ce l'hai quasi fatta, ora devi solo tirarla un po' in lungo con l'opinione pubblica. Ce l'hai fatta, il pubblico la beve, sei riuscito a farla franca. È una produzione Fratelli Barker.